Mentre i sindaci abruzzesi sono tornati a protestare per i pedaggi di autostrade dei parchi sale di tono la polemica fra il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Toninelli e i vertici di strada dei parchi che attraverso una nota ribattuto al numero uno del dicastero di via Nomentana che nelle ultime ore aveva dichiarato che protestando contro il governo si aiuta e si fa il gioco unicamente di strada dei parchi il concessionario che gestisce da anni le arterie autostradali e che ha lucrato su un bene pubblico al fine di arricchirsi i toni del ministro Toninelli ha dichiarato strada dei parchi travalicano ampiamente i livelli istituzionali che caratterizzano o dovrebbero caratterizzare i rapporti fra governo e concessionario il ministro sa benissimo dovrebbe sapere spiega strada dei parchi che senza l'elaborazione di un pef degno di questo nome gli aumenti dei pedaggi scatteranno per contratto è inutile che continui a sostenere che gli aumenti sono un libero arbitrio della strada dei parchi abbiamo sospeso autonomamente i rincari dei pedaggi decisi a gennaio quale disponibilità di buona volontà nei confronti degli utenti ma senza la garanzia di flussi finanziari costanti e garantiti da un piano economico e finanziario pluriennale dovremo assolutamente ripristinarli ed il ministro lo sa occorre ricordare al ministro infine che ogni 10 euro di pedaggi autostradali lo stato cioè le casse del ministero delle infrastrutture ne portano a casa 5 euro e 70 strada dei parchi ha poi aggiunto che il ministro sa anche bene che in questa terra di terremoti per poter fare i lavori di messa in sicurezza urgente sotto i viadotti nelle 2016 siamo stati costretti a ricorrere ai giudici amministrativi la prima parte di quei lavori sono terminati a giugno 2018 così se oggi a 24 e a 25 hanno sotto i 197 viadotti un sistema di sicurezza nuovo lo si deve a due sentenze al fatto che gli azionisti di strada dei parchi hanno deciso di anticipare altri 110 milioni di euro strada dei parchi le ribadiamo è pronta a lavorare giorno e notte per trovare una soluzione che blocchi gli aumenti e al tempo stesso le riconfermiamo dice strada dei parchi al ministro che siamo pronti a fare più della nostra parte per avviare i cantieri per chiudere il piano di messa in sicurezza urgente appena avremo i decreti attuativi grazie a tutti